Accessorio per cuciture circolari Cucire in cerchio La cucitura circolare vi permetterà di cucire punti decorativi in cerchio di diametro massimo di 10 cm. Questo accessorio ha un braccio mobile e una punta accuminata chiamato perno, sul quale il tessuto ruota mentre cucite. Per fissarlo alla macchina dovrete rimuovere la lastra di copertura della bobina ed inserire l'accessorio per la cucitura circolare. A questo punto preparate il vostro tessuto, segnando con un pennarello solubile in acqua il centro del cerchio che andrete a realizzare. Mettere uno strato di stabilizzatore dietro di esso e rinforzare il centro mettendo dei pezzi di nastro adesivo. Rimuovete il coperchio dal perno, inserite il tessuto sul perno in modo che questo buchi il centro del vostro cerchio e rimettete il coperchio del perno. Allentate il dispositivo di scorrimento e regolate il tessuto in modo che i segni esterni del cerchio siano sotto l'ago. Bloccate il dispositivo di scorrimento e scegliete il punto decorativo che preferite. Iniziate a cucire accompagnando il tessuto con le mani. L'accessorio per le cuciture circolari farà in modo che i vostri punti abbiano sempre la stessa distanza dal centro, dal primo all'ultimo. Una volta terminato, legate il vostro filo e rimuovete il coperchio del perno. Ed ecco che avrete realizzato la vostra cucitura circolare con punti decorativi.